con un nuovo look un po l'ho detto già nell'altro video un po gonfiato un pochino ho fatto qualche punturina però scusate questa mia bezzo allora nuovo video sempre su richiesta saluto mio telespettatore di youtube fisica del frate che mi ha chiesto a quando iniettive e suriettive b a quante quando lezioni di analisi allora prima su richiesta di un altro spettatore ho fatto definizione di derivata quindi più analisi di così si muore per quanto riguarda iniettive e suriettive farò un video brevissimo perché poi alla fine è velocissimo appunto sulle iniettive e suriettive ovviamente io ho già fatto un video sulla definizione di funzione è stato uno dei miei primi l'ho rifatto ancora un pochino più conciso quindi ne trovate due più o meno simili cioè uno più veloce l'altro in cui parlo 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 un pochino di più scegliete quello da mezz'ora quello da 11 minuti uno sono un pochino più veloce nello spiegare l'altro invece ho fatto più esempi e contro esempi ovviamente non potete seguire questo video su iniettive e suriettive se non sapete che cos'è una funzione ok vado a spiegare ovviamente cliccate campanella cliccate il like seguitemi aiutatemi nel progredire su questo mio progetto allora iniettive e suriettive allora partiamo dai grafici base di quelli con Euler e Roven io vi ho detto che una situazione così facendovi ridere sui maschi le ragazze eccetera eccetera una situazione così non è funzione è una relazione che può succedere ma non è funzione perché per essere funzione non deve mai succedere che un elemento del primo insieme siano associati più di un elemento del secondo ne deve essere associato uno e uno solo ok invece una situazione del genere non ha nessun problema a essere funzione può succedere che elementi diversi vadano a finire abbiano la stessa io allora ieri ai miei ragazzi di quarta ho detto c'è un modo di parlare che non è matematico che a volte è quello che faccio io vadano a finire parte la freccia questo per far capire ai miei allunni con un linguaggio molto terra terra le cose poi se uno le capisce bisognerebbe sforzarsi ad usare un linguaggio più matematico il linguaggio più matematico cosa potrebbe essere ho due elementi del dominio che hanno la stessa immagine oppure ho un elemento del codominio che ha due controimmagini diverse o lui è immagine di due valori diversi oppure terra terra ci sono due valori della variabile indipendente diversi che hanno la stessa immagine quindi se succede una cosa così è funzione però non si chiamerà funzione iniettiva iniettiva succede proprio quando non capita mai questa cosa qui voi avete x1 che è diverso da x2 allora la f di x1 sarà obbligatoriamente diversa dalla f di x2 come ho detto ai miei allunni basta solo una coppia in cui capita questa cosa qui la vostra funzione non è iniettiva poi magari ci avete altri valori che vanno a finire tra virgolette in posti diversi va bene però se già trovate una coppia di numeri che sono associati allo stesso valore questa funzione sicuramente non è iniettiva ok? sicuramente non è una funzione iniettiva è una funzione ma non è iniettiva esempio pratico l'ho fatto a scuola ieri y uguale x alla seconda voi partite da 1 partite da meno 1 come risultato se in questa funzione andate a sostituire 1 meno 1 avrete sempre come risultato 1 2 meno 2 avrete 4 3 meno 3 tutti i valori opposti hanno lo stesso risultato però già un esempio è già sufficiente per dire che questa funzione qui non è iniettiva dal punto di vista grafico come la riconoscete? dal fatto che trovate almeno mettiamo che il vostro grafico io disegno un grafico qualunque disegno una curva qualunque magari fatta così ok? e mi chiedo è iniettiva oppure non è iniettiva? voi dovete scogitare di vedere se esiste una retta orizzontale che vi tocca la curva in più punti ne bastano due e basta una solo come ho detto prima basta un solo controesempio questa retta gialla orizzontale vedete che vi tocca la curva qua qua e qua quindi ci sono tre x diverse che vi danno lo stesso la stessa y questi tre punti hanno x diverse che danno la stessa y mettiamo non so che questa y sia 1,2 voi avete la x1 e che sulla curva rappresenta questo punto che ha coordinate x1 1,2 x2 si specchia in 1,2 x3 si specchia in 1,2 qui avete addirittura tre valori diversi x1, x2 e x3 che vanno tutti e tre finire nello stesso valore che è 1,2 ok? è già sufficiente per dire che non è iniettiva poi ce ne sono altre non è solo quello che dà problema di non essere iniettiva se io prendo anche questa orizzontale ci sono due valori diversi sulla vostra curva che hanno la stessa y ok? questa iniettiva su reattiva invece cosa vuol dire? io vi avevo detto che nessuno mi vieta di avere degli elementi sul secondo insieme questo che non sono immagini di nulla mentre il dominio deve essere per forza tutto il codominio non mi interessa non tutti i valori del codominio devono essere immagini di qualcosa se questo non succede cioè se questo elemento non ci fosse la vostra funzione è suriettiva cioè suriettiva è quando il codominio corrisponde all'insieme B questo è l'insieme B che è il codominio? il codominio è l'insieme delle immagini se l'insieme delle immagini coincide con B quella è una funzione iniettiva quindi detto in termini matematici per ogni y appartenente al codominio y è l'immagine di qualche x esiste almeno una x per la cui y è la f di qualche x per ogni y1 appartenente a B esiste almeno un x1 se poi ce ne fossero due fa niente che mi danno quella come immagine allora dal grafico di una funzione ecco dove le riconoscete dovete stare un pochino attenti a come è fatta la curva cioè se voi avete una curva che per esempio è limitata cioè magari arriva qui poi va su eccetera eccetera vedete che tutti i valori negativi non sono immagini di nulla non esiste nessuna x che dà come y un valore negativo però se voi vedete che invece una curva fa una roba del genere cioè da una parte va su su verso il più infinito da questa parte va verso il meno infinito e vi accorgete che ogni y è immagine di qualcosa io prendo d'occhi chiusi un valore sull'asse delle y questo 2 riesco a trovare facendo magari un orizzontale riesco a questa orizzontale intercettare la curva sì in questo valore 1,3 come risultato sulla curva mi dà 2 se parto dalla x uguale a 1,3 ne basta 1 basta una y una x che mi dia quella come immagine ok buon velocemente che cos'è la biattiva se voi avete una funzione che è sia iniettiva che suriattiva quella è biiniettiva viene chiamata in altre letterature anglosassime la biattiva viene chiamata la funzione 1,1 perché voi elementi diversi dovete finire in posti diversi e non ci può essere ovviamente qui un punto a cui non arriva nulla quindi è una funzione 1,1 deve essere iniettiva e suriattiva ok se vi è piaciuto questo video se volete comunque che vi registri qualcosa di altro se volete chiedere meglio delle altre specifiche poi ci sono altre definizioni sulle funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti monotone, crescenti monotone, non decrescenti strettamente, non strettamente periodiche chiedetemelo appena ho 5 minuti smetto oggi il giorno libero perché la mia scuola quest'anno purtroppo fa la settimana corta per cui il sabato sono a casa adesso mi metto a fare delle pulizie se avete delle richieste io sono qui tac vi faccio il video in maniera allora saluto ancora il mio abbonato di youtube che mi aveva chiesto iniettive iniettive fisica del frate si chiama e niente vi saluto e concludo questo video e attivate la campanella questo è importante ok Grazie.